il lupo non lo so non so cosa sia non so cosa sia non l'ho mai sentito mai 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 tu l'hai mai sentito no e allora vedi lupo non so cosa sia non ho idea non ho idea normalmente un'allarma del genere ti avvisa che il panino e quattro formaggi è pronto è bello caldo solo qui non vedo né panini né formaggi quindi voglio dire e lupo non lo so la macchina ci sta parlando ci sta dicendo che c'è un problema solo che non parla la sua lingua e quindi non lo so e lupo non è che posso imparare tutto e lupo e adesso con calma stiamo calmi stiamo calmi con calma e metodo calma e metodo e cacciavite risolviamo il problema lupo cacciavite è alla base di qualsiasi riparazione lupo lupo io con cacciavite faccio miracoli ti mando sulla luna ti mando sulla luna resti lì però resti lì vuoi andare sulla luna resti lì lupo resti lì resti lì lupo resti lì e adesso vediamo lupo non lo so fammi lavorare adesso guardo sotto il cofano e vediamo lupo il problema il problema lo risolviamo non è che rimaniamo qua con la musichetta e lupo dammi un po' di tempo buona notizia il motore c'è ancora è il vicipoco il motore c'è lupo quindi il motore c'è il motore c'è le ruote pure mi sembra le ruote pure i fai sono spenti e il lupo non lo so non so cosa pensare lupo e ho capito ho cacciavite ma non so come usarlo posso usare non lo so posso guardare la scatola dei fuselli dei fusebili non le fuselli se ho una scatola di fuselli non stavo qua stavo a casa avevamo già i fusebili vabbè siamo capiti adesso fammi smontare quella bella bella nascosta poi con le mosche e via e via mosca di merda lupo io roba bruciata qua non ne vedo a parte che se fosse bruciato fusibile non ci sarebbe neanche la musichetta quindi voglio dire non possono essere fusibili non lo so lupo non lo so non lo so magari è un segnale extraterrestre che ci sta dicendo andate a fare in culo non lo so lupo non lo so non lo so adesso ho spaccototto però o la smetto ho spaccototto spaccototto non sopporto più questa musichetta cacciavite cosa ci faccio con cacciavite lupo e ho capito giuro che ho spaccototto senti un po' bella macchina senti un po' da uomo a macchina da uomo a macchina o la smetti di suonare o la smetti di suonare o ti permuto giuro che ti permuto con una panda 30 beige col metro piatto col metro piatto e voilà te l'ho detto lupo io sono un meccanico provetto ti risolvo tutti i problemi lupo ti risolvo tutti i problemi e beh basta un cacciavite hai visto? quanto ci ho messo? due minuti? due minuti? e lupo e ho capito cacciavite non è servito sono subito le minacce però problema l'ho risolto o no e allora sono un meccanico provetto sono un meccanico provetto sono un meccanico provetto e ciò che cacciavite ciò che cacciavite ti manda solo uno quando vuoi lupo ti manda solo un quanto vuoi in orbita così ooooh quando vuoi lupo quando vuoi lupo non ce n'è migliore di me lupo non ce n'è migliore di me non ce n'è non ce n'è lupo il punto qual è? risolvere il problema l'ho risolto o no? l'ho risolto e basta e allora sono un grande sono un grande meccanico sono un grande meccanico sono insuperabile lupo sono insuperabile Siamoci un pezzo! Lupa!